Il consigliere regionale del Partito Democratico Pierpaolo Petrucci è il sciopero della fame nel suo ufficio di Palazzo dell'Amiciclo, sede dell'Assemblea Bruzzesi all'Aquila, dove è trascorso la notte per protestare contro i ritardi nella realizzazione della superstrada all'Aquila-Matrice, una strada a veloce percorrenza in corso d'opera da ormai 40 anni per collegare la conca aquilana da Matrice e il resto del Lazio, passando per la Valle del Laterno in aree devastate dal sisma del 2009, poi da quello di 2017 e 2016 ovviamente. A maggio doveva partire il quarto lotto, già finanziato ed appaltato, che da Marana di Montereale arriva a Cavallari di Montereale, al confine tra l'Abruzza e il Lazio, mancherebbe però il definitivo via libera da parte dell'ANAS, e anche se l'ANAS ha assicurato che i lavori inizieranno, Pietrucci non ci sta e lo vuole scritto. In una nota dell'ANAS si è parlato di avvio dei cantieri entro settembre. Sentiti i sindaci dell'Alta Valle del Laterno però ha ribadito Pietrucci, riteniamo insufficienti le rassicurazioni dell'ANAS. sull'apertura dei cantieri del quarto lotto entro il mese di settembre, quindi lo sciopero della fame continuerà. Pietrucci ha chiesto la convocazione di un tavolo a Roma anche alla presenza dei sindaci parlamentari e presidenti di regione. Intanto Pietrucci ha incassato anche la solidarietà del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e anche del vice sindaco Guido Liris che ha voluto intervenire sulla vicenda.